Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Questo è il nuovo appuntamento, la Lancia Stratos, la regina dei rally, edizione Centauria in scala 1 a 8. E l'uscita numero 29, mi raccomando non perdetevi la prossima uscita che è già qui in mio possesso, quindi, appena terminerò questo video, andrò a caricare anche l'uscita numero 30. Andiamo a vedere, come di consueto, i contenuti interni del fascicolo. Questa è la seconda di copertina che si ripete ad ogni collezione, con numeri utili e i servizi. Questo è il contenuto che vedremo dopo. Bene nel dettaglio. Io sono andato già a guardarmi un po' come facilitarvi un po' il montaggio. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi. Questo è poi il risultato che otterremo alla fine di questa sessione di montaggio. Guardate che spettacolo. Come vi avevo anticipato già dalla prima uscita, dove vi avevo consigliato, qualora per voi fosse stato un modello gradito, e sicuramente, oltre a piacermi per quanto mi riguarda, è anche un'auto storica, con un pilota storico, un navigatore storico. E queste sono le uniche due e mezza pagine di storia che abbiamo. E quindi mi ero permesso di dirvi se vi piace quest'auto fate questa collezione, se potete farla, perché è veramente un ottimo modello ed è riprodotto anche bene. Eccoci qua. Alla fine di questo montaggio andrò a fare una rappresentazione di tutto quello che è stato montato fino a questo numero, il 29. Volevo soltanto dirvi che per tutti coloro i quali volessero aiutare a dar vita al mio canale, ed è proprio la frase più giusta, possono dare un contributo, troverete il link in descrizione su Patreon, oppure sotto ogni video c'è scritto grazie e potete donare quello che volete. Scusatemi se vi dico questo, però le spese ci sono, io cerco di fare quello che posso e ovviamente voi non dovete darmi nulla, io ve lo dico soltanto perché è un aiuto in più per me. Qualora invece non poteste darmi nulla o non vorreste darmi nulla, quello che vi chiedo è di, se è possibile per voi, di non saltare gli annunci pubblicitari. Lo so, è una cosa che dà fastidio alla pubblicità, ma è l'anima del commercio. E se voi quando vi compare il salto annuncio lo mandate avanti, noi che facciamo questo, già guadagniamo poco, così guadagniamo veramente niente. Ecco, solo per questo ve lo volevo dire ragazzi. Siete voi la linfa del canale e ve lo dirò finché io farò questo, io ve lo ripeterò sempre, perché è un dirvi grazie doveroso e voluto. Bene, andiamo a vedere cosa è contenuto all'interno di questo fascicolo. Io come vi ho anticipato prima ho già aperto tutto, sono andato a vedermi un po' qual era il montaggio più ottimale come fasi. Poi voi mi raccomando guardate sempre le istruzioni, se poi trovate che qualcosa di quello che vi dice Michele può esservi di aiuto e utile lo seguite, altrimenti ci sono le istruzioni. Abbiamo tre tubi che poi andremo a identificare con i numeri per il montaggio corretto, eccoli qua, del silenziatore. Chiedo scusa dello scarico, tutto in plastica. Quello che vedete in questo numero è tutto in plastica e abbiamo poi anche due molle in metallo che saranno quelle che sosterranno appunto questo scarico che andremo a montare. Poi abbiamo il silenziatore. Il tubo del silenziatore. Il sostegno del silenziatore. Qui poi andremo a montare la molla più corta. In questo foro qui. E poi abbiamo questi due pezzi che sono i supporti della cuffia termica. E la cuffia termica è questa. Quella che è un paracalore, in pratica. Allora, io sono andato già a dividerli, perché voi li troverete uniti. Poi abbiamo quattro serie di viti. Eccole qui. Le CM e le QM che vanno avitate nel metallo e qui, se vorrete, potrete usare un lubrificante, come io sono solito fare per crearvi i filetti. E poi le altre due, SP e MP. Queste invece, come potete vedere, hanno la P finale, che è la lettera che indica plastica. E non va usato alcun tipo di lubrificante. Bene, penso di avervi detto tutto. La prima cosa che vi consiglio di fare, ok? Voi, ripeto per l'ultima volta, voi guardate le istruzioni. Io le ho guardate e poi ho pensato di consigliarvi così. Una volta che avete separato questi pezzi, prendete questo, che è la cuffia termica, e andate a fare così. Quindi, il foro sotto, un attimo che metto un po' a fuoco l'immagine. Ok. Il foro più basso è quello dove deve entrare il perno. Vi dico di farlo prima, perché una volta montato, se il perno ha un diametro appena maggiore del foro, fate fatica. Invece così ve lo create già. Ecco. Scusatemi, ragazzi. Vedete? L'ho appena montato prima di fare il video, ma non è successo niente, perché, rettifico, sono i fori sopra su cui vanno inseriti i perni, ok? Ecco qua. Scusatemi. Vedete? E qua adesso andiamo a metterci subito la vite MP. Io userò un cacciavite con la punta più sottile, perché sono davvero piccole queste. Devo dire che sono sempre più entusiasta di questo modello, come sinceramente anche degli altri che sto costruendo, che troverete nella mia playlist. Se avete piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Bene, questo l'abbiamo montato. Poi Prendiamo questo. Sono due pezzi. Andiamo a prendere ovviamente quello che ha questo segmento. Inseriamo la parte più lunga dentro. Vedete? Prendiamo una vite SP e lo blocchiamo. Prendiamo il tubo del silenziatore. Prendiamo l'altro pezzo e andiamo a metterlo così. Non schiacciatelo qui, perché rischiate di spezzarlo. Una volta inserito, fate leva solo sul perno. Mai qui. Una volta che arriva imbattuta, siete a posto. Comunque vi accertate quando andrete a metterlo uno sopra l'altro e vedete che non ci deve essere lo spazio. Altrimenti dovete schiacciarlo ancora un po'. Vedete? Perfetto. Va bene. Prendiamo un'altra vite SP e chiudiamo. Ricordatevi che è una buona cosa contarvi tutti i pezzi che avete. Avete il numero che vi aiuta. Contateli tutti e controllate che ci sia tutto all'interno dei blister. Mi raccomando, perché può succedere che vi manchi un pezzo o che sia sbagliato. Controllatelo prima. Perfetto. A questo punto andiamo a identificare i tubi come ci fa vedere qui. È molto semplice il montaggio, però bisogna comunque sempre dedicarele un po' di attenzione. Questo è il tubo numero 6. e lo mettiamo qui. Poi ci sono questi due tubi che possono sembrare simili, ma oltre ad avere il pezzo finale che è più lungo, questo, abbiamo anche, vedete, la curvatura che è più vicina al collettore. Questa è più distante e questa è più vicina. Quindi non vi potete sbagliare. Quella che ha la curvatura, la curvatura più vicina è la numero 7. o meglio è il numero 7. E questo, ovviamente, per esclusione è il numero 6. Quindi 5, 6 e 7. Sappiamo che abbiamo questo, che è il 5, il 6 e il 7. Adesso, quando girate pagina, ecco qui. Mettiamo questo così. Prendiamo il 7. Sapete che il 7 e il 5, guardate, il 5 è questo e lo vado a mettere qui. Comunque alla fine vi farò vedere che se sbagliate ve ne accorgete subito. A parte che non si monterebbe il pezzo, ma ve ne accorgete subito. Poi vi farò vedere perché. Poi prendiamo il 7. Scusatemi un attimo. Il 6 quello che va sopra e il 7 va di fianco. Perfetto. E il 6. Ok, guardate. 5. Vediamo un attimo questo. Questo è il numero 5 e questo è il numero 7. Vedete che sono uno attaccato all'altro. 5 e 7. Quello sopra è il 6, ovviamente, per esclusione. Com'è che vi accorgete se sbagliate? Guardate. Così sono giusti, perché abbiamo la distanza poi da andare ad avvitare alla testata del motore. Ma se io avessi fatto così, lo vedete? Guardate il disegno. Questo. Un attimo che ingrandisco. Guardate il disegno. Questo tubo qua è più lungo di quello sotto. Nella foto vi fa vedere che è più corto. Ecco, se doveste sbagliare, controllate questa foto e vi accerterete subito se avete fatto bene o avete fatto male. Ok? Quindi, torniamo a noi. Ecco, e infatti questo corrisponde corrisponde perfettamente a questo. Guardatele sempre le foto. Prendiamo il pezzo che abbiamo montato prima e dobbiamo andare a inserire questi due perni, uno e due. vedete che questo collettore ha due fori, questo collettore ha due fori e questo ne ha soltanto uno. Ecco, nel foro di destra di tutti i collettori andremo a mettere la vite, quella che poi terrà la SP fermo il collettore alla testata. Noi dobbiamo andare adesso ad occupare i fori di sinistra. Prendiamo questo e andiamo a metterli così. Uno e adesso vi faccio vedere anche l'altro ma prima di farlo vi dico una cosa. Se vedete che fa veramente tanto sforzo ad entrare allargatelo appena appena ma non dovete farlo tutto da una parte all'altra. Prendete un cacciavite piccolo e fate così perché se lui entra libero dentro sarà trattenuto poi dietro. Se lo fate troppo largo poi vi toccherà incollarlo. E adesso facciamo questo. Ecco. Guardate. Questo è quello che voi dovrete avere alla fine. Adesso abbiamo ovviamente soltanto un foro di destra per ogni collettore dove andremo a mettere la vite SP. Bene. Abbiamo fatto anche questo. Adesso prendiamo la vite SP. Per fare questo ovviamente ci servirà il motore che è montato sul telaio. Eccolo qui. Io le ho già messe le viti SP. Mi sono già creato i filetti senza olio. Ho avvitato le viti come potete vedere. Queste sono le tre viti SP. Adesso ovviamente le andrò a rimuovere per poter montare i collettori. questo cavo che vedete che parte dal motorino di avviamento quindi dal perno superiore andrà poi alla fine di questo montaggio montato sul morsetto della batteria. Va bene? Ok. Adesso andiamo a montare questo. il paracalore che vedete è stato necessario qui chiaramente è stato riprodotto come nella vera è stato necessario perché il troppo calore avrebbe potuto danneggiare il rame all'interno del motorino d'avviamento vedete invece grazie al paracalore questo non può avvenire ok prendiamo la vite SP e andiamo a bloccarci i collettori è difficile per me come vi dico sempre riuscire ad inquadrare non riuscire dall'inquadratura e nello stesso tempo attraverso il telefonino fare questa operazione che per voi è semplicissima perché di fatto è semplicissima però ecco vedete esco fuori un attimo che posso alzare così perfetto mettiamoci questo prima volevo farvi vedere l'operazione ma se diventa ancora troppo lunga perché faccio fatica a non uscire dall'inquadratura ok la prima l'abbiamo messa non lavorate storti con le viti ecco perché vi dico createvi il filetto prima perché poi se voi vi create il filetto la vite si avvita praticamente da sola diciamo se invece dovete farvi il filetto una volta messo così il collettore la vite vi entra storta perché non sempre avete la possibilità di avere il cacciavite perpendicolare alla vite mettiamo l'ultima io l'avevo preso l'altra eccola qua infatti aspettate ragazzi questa vita abbiate pazienza tanto insomma cose più importanti ve l'ho dette metto la pausa e la monto con calma bene adesso prendiamo questo lo giriamo al contrario prendiamo una vite cm del lubrificante bagniamo la vite e andiamo a crearci i filetti uno qui sto cercando di mettere a fuoco l'immagine e uno qui come potete vedere io ho lasciato le viti già all'interno una volta fatto questo prendiamo due viti QM perché loro ci dicono di farlo successivamente al montaggio di questo telaio al telaio più grande questi poi sono i supporti del coprimotore ma fatelo prima perché è meglio allora due viti QM avete un foro su questa traversa andate a vitarne uno di qua e una nell'altro foro all'interno guardate bene come è posizionato il pezzo adesso vi faccio vedere una cosa prendete le due molle e quando le misurate non guardate la lunghezza totale ma guardate la spirale scegliete la più lunga andremo a montare prima quella eccola qui vedete questa sulla destra è la più lunga poco eh non pensiate di avere grandissime differenze non diventate matti per cercarla perché magari molti di voi avranno la stessa misura fatto questo prendiamo il cacciavite andiamo a svitare la vite che abbiamo messo prima la QM e ci fissiamo la molla subito sarà tutto molto più semplice come la mettiamo la molla guardate non così ma con le aperture rivolte verso il basso adesso vi faccio vedere proprio una volta montata un po' Così Ecco Dovrete montarla così Vedete che abbiamo l'apertura Verso la parte più grande qui Fate la stessa cosa adesso dall'altra parte Sempre ovviamente Con l'apertura come la molla precedente Verso il motore Non stringetela molto forte la vite Arrivate in battuta Ma permettete alla molla di poter ruotare appena appena Perché poi dovrete andare a centrare I fori dei supporti della marmita Che adesso andiamo a montare Sopra questo pezzo Bene A questo punto andiamo a rimuovere le due viti CM Che abbiamo usato precedentemente per crearci il filetto Ecco qui Andiamo a metterlo così Sopra questi fori Uno e due E avvitiamo Ricordatevi Se vi siete creati i filetti Girate il calciavite al contrario Quando sentite il dentino Avvitate Sentito? Senza stringere tutto Appena appena Controllate solo che tutto si è inserito bene E adesso possiamo stringere Mentre siete in questa posizione Andiamo a montarci Le molle Ecco qui Tenete presente Che sono puramente estetiche La marmitta sta su da sola Però Andiamo a mettere lo stesso La punta della molla All'interno Del primo foro Questo qua nero Parete un po' fatica a farlo entrare Ma è normale Perché? Perché l'uncino è molto lungo Per permettere alla molla Di non scappare fuori Visto che come vi ho appena detto A livello di utilità Non l'ha Perché non ha nessun tiraggio Perché è stata fatta a misura Eccolo qua Faccio vedere Vedete il nero? La molla è entrata Adesso facciamo la stessa cosa con il grigio Questa deve entrare nel foro grigio Giro il contrario La faccio entrare dentro Ecco E abbiamo montato le due molle Ok? Adesso bisogna montare quella Dall'altro lato Una volta montate le molle Potrete stringere Se vorrete La vite che vi ho detto Di tenere Lenta prima La QM Quella che blocca la molla Alla traversa Adesso andiamo a vederla E qua è a posto Fate così però Guardate Quando inserite la molla Poi spingete in giù La marmitta Così entra bene Nella molla E il foro viene occupato Meglio E poi andiamo a avvitare Questa qua Senza esagerare La stringiamo solo un po' Facciamo la stessa cosa Con le altre che abbiamo lasciato Lente precedentemente Queste qui Ok? Beh ma diciamoci la verità Ma quanto è bello Non vi preoccupate Il collettore Da verso l'alto Chiedo scusa Il collettore Ho sbagliato La marmitta Il terminale Va verso l'alto È giusto così Non vi preoccupate Bene Cosa ci rimane da fare? Soltanto da attaccare Il tubo Vi ricordate Quello che vi avevo detto prima Questo Che parte dal motorino D'avviamento Lo facciamo passare Guardate Ovviamente Qui Ok? Facciamo uscire da qui E andiamo ad attaccarlo A questo morsetto Il positivo Anche perché di là Sarebbe impossibile Farlo arrivare Ecco qua Ricordatevi Un consiglio che vi do Ma questo vale su tutti i modelli Incollatevi Tutti i tubi Come ho fatto io E dopo andrò a incollarmi Anche questo Nei perni dove vanno inseriti Quando li incollate Non mettete la colla Sul perno Perché quando andrete a spingere Il tubo Vi uscirà tutta la colla fuori Ed è qualcosa di bruttissimo Con uno stuzzicadenti Andate a metterne appena appena Una puntina Dentro il tubo E inserite Non vedrete nulla Ma il tubo Non vi si staccherà Mai Vi sconsiglio di usare La loctite Anche se qui ce lo scrivono Perché Potrebbe succedere Che col tempo Soprattutto i tubi più grossi Che spingono di più Cristallizzano E si spezzano Magari i piccoli no Ma i grandi potrebbe succedere Perché La loctite C'ha un'acrilica Secca le gomme Ok Bene Penso che A questo punto Abbiamo finito il montaggio Adesso andiamo a fare Vado a fare subito Una rappresentazione Di tutto quello Che ho montato Fino All'uscita numero 29 Poi ci salutiamo E vado subito A preparare Il video Del fascicolo Numero 30 A dopo Eccoci qua Questo Mamma mia Ma quanto è bella Ma quanto è bello Questo modello Ma quanto è bello Sono veramente contento Stavo dicendo Questo è quello Che abbiamo montato Fino all'uscita Numero 29 Ecco qua Guardate che spettacolo Che bellezza Adesso Davvero Se ci fosse una scenografia Più realistica Chi è che potrebbe dire Che questo è un modellino Io non ho di sicuro Ma neanche voi Perché sembra vera C'è il gruppo Fanalleria Secondario e primario Che sembra Vero Meravigliosa Targa storica Rettina in metallo Tutte le sei luci Funzioneranno Grazie a un telecomando Guardate dopo la modifica Dello sterzo Sentite Tutto fluido Provate voi A fare così Non so se riuscirete La modifica La trovate Nei miei video Mi raccomando Se avete piacere Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Così da rimanere Sempre aggiornati Su ogni mio nuovo video Pubblicato Date un'occhiata Anche alla playlist Del canale Troverete tanti altri modelli Tanti Si fa per dire Tanti Ma si dai Mi è uscito così Targhetta in alluminio Verniciato Livreal Italia Tutto verniciato Tutto verniciato Una Perfezione Delle linee Tra il verde E il bianco Eccellente Telaio Tutto in metallo Volante In metallo Verniciato Questa L'abbiamo appena vista Che è la copertura Dei fanali Gruppi secondari Avrei dovuto dire Del gruppo Fanali secondario Ma ci siamo capiti Dai E questo è quello Che abbiamo montato adesso Per chi Mi vede per la prima volta Guardate Il particolare Questa retina qui È in metallo Molti si sono lamentati Per il fatto che I tromboncini di aspirazione Non hanno la retina Sopra metallica Come quella vera Bene È una cosa Più che altro nostra Ma Sinceramente Chi la vede Non si vede Assolutamente nulla Volevo farvi vedere Questo Ovviamente Mi rivolgo A quelli Che mi vedono Per la prima volta Guardate Quello che fissa La batteria Con la cinghia La fibbia In tessuto Bellissimo Bellissimo Sono davvero Molto contento Adesso ve lo giro Sotto sopra Vi faccio vedere Il motore Anche da sotto Vado a rimuovere questo Eccolo lì Ovviamente Poi questi tubi Saranno da mettere Adesso sono fuori Dalla loro Sede Perché poi questi Andranno infilati Qui In questi due fori Che vedete Qui Uno qui E uno qui Che Come in quella vera Durante Durante la marcia Entra aria Da qui Vedete che Forse dietro Si vede il foro Eccolo lì Entrare da qui Che passa Attraverso Questi due Corrugati Questi due Tubi qui E che vanno A raffreddare I dischi Ventilati Bellissimo Vedete Ammortizzatori Perfetti Eccoli qua Perfetti Bene ragazzi So che i miei video Sono molto più lunghi Di tanti altri tutorial Però Ecco Io non mi limito Al solo montaggio Ma cerco di aiutare Quelli che hanno più difficoltà Nel montaggio Dei modellini E soprattutto Di semplificarvi Le fasi Nello stesso montaggio E di evitare Che voi Possiate fare danno E magari Laddove è anche Possibile Qualora ci fosse La necessità Migliorare Anche il funzionamento Così come ho fatto Guardate che meraviglia Non si sente Alcun rumore Nello sterzo Anche se Sappiamo tutti Che non ci dobbiamo giocare Bene ragazzi Grazie di tutto Grazie del vostro tempo Un saluto a voi A tutti i vostri cari più cari E mi raccomando Ricordatevi Se avete piacere Di iscrivervi al canale Un giorno Che sarò anche in grado Di mettere Le scritte Sopra Il video Eviterò Di dirvelo O magari ve lo dirò solo una volta Dai Non due o tre Ciao a tutti E grazie del vostro tempo